Dungeons of Eder 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 Ah ok Si fa questo Con la G si fa Ula Ma non sembra neanche così tanto legnoso Dito la verità Graficamente c'è di meglio Però Iniziamoci La campagna Magari poi Si prova anche un dungeon Si spera Il salto Ho già qualcosa Perché tanti giochi non hanno il salto Invece Si graficamente ho detto Non è il miracolo Però Ah Al tasto Destro invece Ci fa fare questa cosa Invece Questa è l'abilità Di affondo Allora andiamo a prenderlo No Ma rettifico Un pochino legnoso Nelle collisioni Insomma Però Voglio vedere la parata Ok F Ok Dobbiamo cercare I sopravvissuti in città Vediamo se c'è qualcuno qui Perché poi Potremmo anche Potenziare Si insomma I salti Dietro Le cose Sono ancora abbastanza grezzi Però Parliamo di un gioco Che non è ancora uscito Sì Anche un po' più lontano Grazie Grazie Felice di vederti Io Non penso Che sarei sopravvissuta Se tu Non fossi stato qui Quando ho sentito La città sottratta L'attacco Io sono corsa qui Prendendo tutte le mie cose E E un soldato Ha spinto un carretto Sopra di me Insomma Una roba del genere La mia gamba È stata colpita E Mi sono presa qualche pozione Che mi ha aiutato Te ne darò una Ok mi danno pozione Intanto c'è qualcuno Che sta picchiando Sarebbe ok per ora Ok Scusi lei Stavo parlando con la signorina Mi scusi Ok Ok Prendi Il guardo Ok Trova i tuoi genitori Ok Devo trovarli Evidentemente di là Va bene 60 metri 60 metri Quindi Sì Veramente è ostico Però se ci si avvicina Si sale Si dovranno ottimizzarlo molto Quindi Credo che per valutare questo gioco Bisogna vedere anche il prezzo A cui lo venderanno Perché È un dungeon crawler Se sarà in italiano Come promette la pagina Steam Già dalle early access E non dal rilascio Sarà una Una gran cosa Insomma Calcolando che Potrebbe anche essere Un gioco di ruolo carino Io vi dico la verità Questo gioco mi ricorda Anche un pochino Kingdom of Amalur Anche se In realtà il fatto che Ci siano queste Diciamo Difficoltà Nello scalare una collina Mi fa un pochino Storcere il naso Insomma Diciamo che I video Gli screen Promettevano Sicuramente meglio Allora Inventario I Seleziona Pozione Veloce La V Ah si Prendo la pozzoncina Ma Magari la prendiamo dopo Tanto Due che mi attaccano Due che mi attaccano Usiamo la F Ok Colpo di scudo Ok Ce l'abbiamo fatta Si Veramente Drammatica La salita Di questa collina Ma vabbè Salve Non posso lasciare i miei Gintori qui Non sono sicuro Di niente Vabbè Vabbè io salto Tutto perché Intanto ci da già Il prossimo obiettivo Uccidi Il ride Leader Quindi andiamo Che poi Il panorama Sembra anche Abbast Boy A mondo Abbastanza carino Prendo la pozione G Bevo la potion E poi picchio E poi picchio Sì Boh Insomma Ho preso un po' d'oro Ma Non lo so Non lo so Onestamente Sarà da vedere Un pochino Come si sviluppa Adesso andiamo avanti Con un pochino Oh Questo Spawnato qua così Salve Proviamo un dungeon Perché poi sarà tutto Basato sui dungeon Quindi Questa storia Andrà un pochino Approfondita Però io sono per Giocare le storie A Gioco finito Intanto Spawnano proprio Cose Così Va bene Non sarà cooperativo Il gioco Perché sono andato Un pochino A vedere Il La pagina Delle discussioni Su Steam E gli sviluppatori Non è chiaramente detto Che sarà un gioco Single player Quindi Se ottimizzato Se in italiano Potrebbe essere Un Un bel gioco Ok Abbiamo livellato Vuoi Come Vuoi avere vendetta Ok Devo avere vendetta Su questi qua Che hanno ucciso tutti Così Visse Ok Bisogna sbloccare Poi Degli allenatori Insomma In città Che ci permetteranno Di Forgiare armi Insomma E svilupparci Ora Non attiviamo La Accord mode Che non ci permetterà Di rinascere Scegliamo La fazione Fazione Abbiamo solo Quella fazione Lo chiamiamo Anday Lo randomizziamo Questo mi spiega molto Vedete Possiamo Possiamo Scegliere L'abbigliamento Possiamo Scegliere Anche i tipi Di pantaloni Vabbè Sì Prendiamo Il menu Ridicolo Lo chiamiamo Anday Le fazioni Non sono Scelezionabili Oggi C'ho Una pronuncia Un po' così Ok E poi Parliamo Col tizio Qui Ci sono Sì È grezzino Ancora Ok Basic survival Difficoltà media Allora Non possiamo ricostruire Questa città O Prenderci una rivincita Sull'Oswari Empire Con Uno stomaco vuoto Testiamo Le tue abilità Di raccolta Nella foresta Qua vicino Ci darà Un item Non comune Ok Inizia Devo prendere Le berries Ok Interessante Diciamo Me lo aspettavo Più Basato Sui dungeon Appunto Come lo pubblicizzano Vediamo Perché Al momento Abbiamo La mappa Qui E Dobbiamo Accogliere 15 Bacche Berries Non erbe Ma bacche E non ho idea Di dove siano Scusi Ma Ehm Scusi Allora Non me le prende Queste Non so Onestamente Dove siano Non c'è un indicatore Quindi Andiamo A vedere Nella foresta Se troviamo qualcosa Dicevo Dicevo Me lo pensavo Basato su dungeon Un po' come Altri giochi In cui comunque Si affrontano i dungeon Un po' come Rogue Legacy Insomma Questo è Ok Abbiamo preso Due bacche Questi sono Chiaramente Dei Goblin Credo Koboldi Ehm Le bacche si trovano Con quella Pianta Che abbiamo visto prima Eccole là Forse Queste qua Scusi Un vanto Che hanno Scritto Gli sviluppatori Su La pagina Steam E che Mai Incontrerete Due volte Lo stesso dungeon Perché è tutto Procedorale Per quello che Io vi dico Che Sono sempre Scettico Soprattutto Quando mi metti Degli edifici Così vuoti Però Come sempre Bisogna tenere conto Del fatto Che è un indie Quindi sarà da vedere Come sarà portato avanti Questo è sicuramente Un gioco Dedicato a Chi ama I dungeon crawler Chi ama Gli hack and slash Magari Prima Uccidiamo il tizio Poi guardiamo L'inventario Abbiamo Il libro dei talenti Dove abbiamo Vari abilità E un punto Rimasto Quindi possiamo andare A prenderci Da quello che ho capito Dovremmo tipo Mettere Magari nel villaggio Il mago E ci darà Accesso Poi agli incantesimi Vedete In questo caso Ho detto giusto Perché qua c'è Fire magic E qui richiede Il fire mage trainer Che abilità prendo L'endurance Quindi Voglio anche capire Che cosa succede In caso di morte Adesso qua Prendiamo altre cose Short bow Voglio vedere L'inventario L'inventario Ho queste cose qui Se io volessi Equipaggiarle Danno 15 Danno 15 No sto buttando Tutto col tasto destro Ma in quale Per verso mondo Ah ok Si clicca così E ci fa prendere Ci fa equipaggiare Le cose Va bene Ok Ehm C'è Inclora Armature 2 Siamo messi Abbastanza bene Quindi Voglio vedere Anche un'altra cosa Se io cambio No diciamo che Cambia un pochino Esteticamente Ma poco Si beh No un pochino si Un pochino si L'aspetto è Proprio diverso Un forziere Questo è un mimic No Non è un mimic Ma è Semplicemente Un forziere Che si muove Vabbè E poi C'è la foresta Completamente Delimitata Da queste mura Quindi Ogni livello Appunto Non si parla solo Di dungeon Ma ogni livello È generato Randomicamente Proceduralmente Va bene Va bene Continuiamo a luttare Ci mancano Poche bacche Ce ne mancano 5 Dobbiamo cercare Quei Cespugli E poi Dovremmo anche Capire come Potenziare Il nostro Villaggio Perché poi Il gioco Diceva Che ogni Dungeon Ogni livello È poco Poi rimaniamo Compenetrati Ogni livello Viene Dotato Di boss Finale Quindi non so Se anche qui Troveremo qualcosa Comunque Speriamo di 14 Ce ne manca uno Ancora Intanto io uccido Faccio un po' di vittime Faccio un po' di Exp Salve Scusi Perdoni eh Ucciderei prima L'arciere Che mi fa un po' paura Ohia E sono morto Che cosa succede Se sono morto Revive A town O creare Un nuovo personaggio Ok Non so Il combattimento È ancora abbastanza Legnoso Il fatto che ci siano Comunque tante varietà Di Di oggetti È carino Il fatto comunque Di potenziare la città Ah qua c'è l'inventario E qua le scorte Ok Parla Ok Dobbiamo Solito Viene fatto ripartire Il livello Ora Dato che abbiamo visto Così a grandi linee Quello che è il gioco base Ovviamente poi Vi ricordo sempre Andrà controllato Come verrà aggiornato E soprattutto Ci sarà il villaggio Da sviluppare Quindi questo è un altro aspetto Su cui dovremo comunque Concentrarci E tenerlo a mente Perché comunque Per potenziare le abilità Ci vogliono Delle cose Io proverei Magari Magari Va bene Adesso Facciamolo al volo Proverei Magari Il Adesso vediamo Se non muoio subito Facciamo Questa missione Io proverei Anche il discorso Della modalità Quella infinita Quella con il Con i dungeon Per vedere un attimino Come funziona Adesso vediamo Se riusciamo a fare tutto In corsa La missione in corsa Anche per vedere Anche perché io Ho come il tremendo Dubbio Che il gioco Sia Tutto così Cioè Missione Parte il livello Istanziato Con la mappa Casuale Che Se l'algoritmo Di Proceduralità Funziona bene È una gran trovata Altrimenti No Ok 14 Dovremmo avere 12 12 Dai continuo a correre Come se non ci fossero domani Ok E adesso finiamo Ok Ok Mo Summon Ah ok Dobbiamo evocare Un portale Per tornare a casa Arrivederci Ok L'abbiamo fatta Un po' più di corsa Questa missione Questo è il villaggio Ok E questo sarà In futuro Il nostro villaggio Che dovremmo sviluppare Ok Parliamo con lui Ci darà un oggetto Non comune Ci darà dell'oro E della Ok Ora Ci viene data Un'altra missione Dovrebbe Partire Un'altra missione Dove Uccidiamo Gli scavenger E Recuperiamo Altre cose Ok Torniamo Al mio menu Perché ovviamente Il fatto di sviluppare Il villaggio È una bella trovata Però Ho come il dubbio Che potrebbe essere piatto Tutto il resto Non lo so Ovviamente Non è ancora uscito Quindi Bisogna aspettare Bisogna vedere Se faranno Qualche miglioria A livello tecnico Che è un pochino Legnoso Il gioco Parecchio Legnoso Ma Secondo me Per un appassionato Come ho già detto prima Di hack and slash E di Appunto Dungeon crawler Questo potrebbe essere Un titolo Non dico Da prendere E Mangiarsi Di colpo Di botto Ma Da prendere E tenere d'occhio Dipende anche dal prezzo Perché Questo qua è un gioco Che secondo me Se Costerà 10 euro Per le access E sarà sviluppato Badate bene Se sarà sviluppato A dovere Potrebbe Essere Un Buon titolo Un buon prezzo Se Costerà di più Andrà tenuto d'occhio Perché Non sarà Forse Il Prezzo migliore Per com'è Attualmente il gioco Allora Questo era Dungeons of Edera L'abbiamo provato In una blind run Anche se Comunque Mi ero Informato Prima Avevo visto qualcosina Grandi Tanti punti interrogativi Nota a favore Del gioco Da quello che ho visto Gli sviluppatori sono Attivissimi Sul loro discord Quindi Mi aspetto Uno sviluppo Diciamo Abbastanza Sostenuto Di questo titolo Esce il 28 di agosto Non so ancora Il prezzo Io vi dico Prezzo consigliato 10 euro E per appassionati Di Huck and Slash E Dungeon Crawler Mi ricorda anche Qualcosa come Kingdom of Amalur O un altro gioco Dove c'era L'editor dei dungeon Ma non mi ricorda Dragon qualcosa Dragon Dungeon Forse una roba del genere Teniamolo d'occhio E alla prossima E ciao ciao Réu Réu Grazie a tutti